Un dialogo inedito tra il Papa Emerito e un matematico ateo è il nuovo libro di Pier Giorgio Di Freddi, frutto di un carteggio e di colloqui con Joseph Ratzinger. Giovanni Battista Brunori. Un dialogo tra fede e scienza, a tratti duro, talvolta intimo, è in cammino alla ricerca della verità di Pier Giorgio Di Freddi Rizzoli, presentato all'Università l'Umsa. Lettere e colloqui con Benedetto XVI dal 2013 al 2021. Diversamente dai fautori di un dialogo fatto di buone maniere e scarsi contenuti, i due intellettuali così diversi danno vita a un'esperienza nuova. Persone diverse, anche all'opposto, che pensano cose completamente antitetiche, possono però, ciò nonostante, andare d'accordo personalmente, trovarsi bene insieme quando si trovano, discutere di tante cose magari senza andare a toccare proprio i temi caldi che li separano e questo in questi tempi è importante. O Di Freddi abbandona le asprezze del passato ma resta lontano dal cattolicesimo su vita, morte, inferno, monoteismo. Il Papa, emerito autore del bestseller Introduzione al Cristianesimo, apprezza la ricerca di verità del matematico, lo definisce un querere deum, cercare Dio, ma poi non esita a affermare ciò che dice sulla figura di Gesù non è degno del suo rango scientifico. Due persone che avevano avuto uno scontro durissimo, adesso fanno parte l'uno della vita dell'altro e mi permetto di azzardare l'ipotesi che entrambe provino un sincero affetto l'uno per l'altro. Evocando le ricerche di altri illustri matematici, O Di Freddi ragiona, se esiste Dio, allora la matematica è coerente.